Saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Boccavionica e Moldavia in questo video ti spiego come procurarti una radiografia panoramica gratis perché si può anche ottenere gratis una radiografia panoramica solitamente puoi averla pagando un centro radiologico che sia convenzionato con la mutua oppure che sia un centro radiologico privato ma tieni conto che c'è anche una possibilità come scoprirai in questo video di ottenere una radiografia gratis dei propri denti una radiografia che può essere utile per inviarci qua a Bucharest o Chisina dove ho i policlinici in Romania o Moldavia e avere così a distanza un'idea se è il caso di andare all'estero oppure no ci sono dei casi in cui non conviene andare all'estero quindi la radiografia è molto importante perché già a distanza ci fa capire e ti fa capire se è un percorso quello che può essere intrapreso oppure non ne vale la pena quello che consiglio sempre è eseguire una radiografia digitale significa che questo esame che vedi alle mie spalle esiste di due tipologie digitale ti consegnano un dischetto oppure analogico ti consegnano la classica lastra di plastica però quella in realtà non è poi ad alta definizione questa digitale ha una definizione maggiore quindi se ci sono dei problemini qua si vedono quelle analogiche un po' più difficili delle volte possono esserci delle sfocature distorsioni che qua in genere non ci sono si può fare in due modi vai dal medico di base ti fai fare la prescrizione con la prescrizione del medico di base di una radiografia delle arcate dentarie per ricerca di foci dentari foci significa infezioni vai in un centro radiologico che sia o meno convenzionato con 20-30 euro se no totalmente privato in genere non va più su dei 40 euro ti fai eseguire la radiografia se la fanno digitale chiedili di tenere a monitor aperta la radiografia con whatsapp fai una foto al monitor del computer e ce l'hai già digitalizzata se no se hai il computer a casa e sei un po' più smanettone metti il cd rom nel computer a patto che il tuo computer abbia ancora il lettore cd rom ormai non li fanno più con il lettore cd rom quindi questi dischetti rimangono un po' così per aria inutilizzabili per quello è meglio che te lo fai aprire al centro radiologico e fai la fotografia col telefono l'altra invece opzione è quella che ti danno la radiografia analogica ma tu lo puoi chiedere prima avete la possibilità di farla analogica o digitale se trovi il centro digitale è meglio ma se trovi anche quella analogica che fai? metti la radiografia contro il cielo azzurro ora di pranzo e fai una fotografia con lo smartphone alla radiografia che è contrastata con la luce del cielo dietro l'altra alternativa qual è? che vai da un qualsiasi dentista di queste catene odontoiatriche ce ne sono ormai decine in Italia tutti fanno la visita con radiografia gratis che non vuol dire che te la danno ma quando aprono la radiografia monitor fai una fotografia al monitor e c'hai nel tuo telefono la lastra che ti hanno fatto gratis questo era come ottenere rapidamente una radiografia gratis prenota la tua visita gratuita in un qualsiasi centro dentistico franchising ce ne sono tanti ripeto fai la visita e scatta una foto al monitor con la radiografia che ti hanno fatto aperta un saluto da dottor Palmas qua dalla Moldavia dove ogni anno curiamo più di 4.000 pazienti che hanno perduto completamente i denti per il piorrea incidenti stradali oppure errori medici quello che facciamo qui noi ogni giorno è questo ovvero andare a ricostruire completamente le arcate dentarie con dei materiali se vogliamo anche abbastanza innovativi andiamo a posizionare nella bocca impianti dentali quella che vedi qua a monitor è una radiografia per esempio di uno dei classici casi che noi andiamo a fare ogni giorno pazienti che hanno perduto completamente la bocca se anche te devi intraprendere questo percorso il consiglio che io ti do è manda una radiografia gratuitamente solitamente una settimana è sufficiente per mandare questa radiografia infatti noi diamo ai nostri pazienti alle persone che entrano in contatto con noi in genere come tempo massimo due settimane cioè o hai bisogno veramente di essere curato vai ti fai questa visita e scatti la foto alla radiografia e ce la mandi oppure facciamo andare avanti gli altri pazienti che sono un po' più urgenti io ti faccio un saluto e un saluto e a presto